Sono Tomas Ovara, sono nato a Castelfiumiano, vivo da 30 anni a Bolzano Gries, ho 45 anni, ho sposato due figli. Essendo nel settore immobiliare da più di 25 anni, mi occuperò soprattutto della riqualificazione dei vari quartieri di Bolzano. Abbiamo il Casanova con l'8C da fare, che adesso viene sviluppato in queste settimane, abbiamo nel rione di Gries, soprattutto l'ex cantina sociale di Gries e il progetto dell'ex muri Gries. Abbiamo in centro il progetto di Vialto Adige e l'ex, la nuova stazione ferroviaria. Abbiamo inoltre anche a Rencio un nuovo quartiere che nascerà sui piani.